Ubriachi al volante provocano tre incidenti, mettendo così in pericolo se stessi e gli altri, oltre a distruggere altre auto e segnaletica stradale, scattano così le denunce per guida in stato di ebrezza alcolica. Si tratta del bilancio di fine anno dei carabinieri della compagna di Sansepolcro, che in concomitanza con le festività hanno svolto dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, incrementati soprattutto nelle ore notturne. Il primo a finire nei guai è stato un 25enne residente in Valtiberina, che lungo la provinciale 43 all'altezza di Anghiari ha perso il controllo della sua auto, finendo prima contro una macchina parcheggiata, poi ribaltandosi, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Guai anche per un 49enne, che mentre viaggiava lungo la statale 73, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere frontalmente contro lo spartitraffico che separa le due corsie di marcia, con ingenti danni sia per l'auto che per la segnaletica stradale. Anche in questo caso il conducente è risultato positivo all'alcol test con un valore tre volte superiore al limite. Qualche giorno dopo quest'ultimo episodio, sempre nello stesso tratto di strada, un 50enne ha perso il controllo del proprio veicolo, andando a sbattere contro la segnaletica verticale presente al lato della strada e terminando la sua corsa sulla aiuola della vicina area di servizio. L'uomo è stato trovato positivo all'accertamento con valori superiori di addirittura quattro volte al limite. Sempre nel corso dei controlli, infine, sono stati segnalati alla prefettura di Arezzo, in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, un 21enne trovato con mezzo grammo di cocaina e un 48enne al quale invece sono stati sequestrati 50 grammi di hashish.